Anche nel corpo, come se tu sai, prima di un pianto trattenuto e quindi uno si fa forza, resisto, sto malo, però sono una persona e quindi resisto, quindi resisto, cambio di atmosfera, cambio di musica, proprio quando arrivi lì, io credo che per noi più hai resistito prima più il pianto è forte. Ecco, quindi proprio anche gli scalini, farli sulla musica, quando vuoi, quando vuoi, quando vuoi, quando vuoi, veramente, che se sono l'ingombro, io li tolgoli, capito? Sì, è giusto. 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 E' giusto. Sì, è 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 giusto. E' giusto. Sì, è 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 giusto. Grazie a tutti.